Si rinnova anche per il 2019 l'attivazione di una spiaggia sociale ad Agropoli e operativa da oggi, 1 luglio fino al 31 agosto. L'arenile, che verrà adeguatamente attrezzato e collocato in località San Marco, in adiacenza a Lido Raggio Verde, sarà destinato ad associazioni di disabili e minori a rischio e sotto tutela, come lo scorso anno in virtù di una collaborazione pubblico-privato, sarà il privato ad occuparsi dell'allestimento della parte di arenile dedicato, messo a disposizione dall'ente. La spiaggia è attrezzata con discese, la sedia job che permette di entrare in acqua e fare il bagno, le docce, i servizi igienici e lo spogliatoio sono accessibili. I servizi utili agli ospiti saranno resi disponibili in maniera completamente gratuita, l'attività di animazione sarà svolta a cura dei volontari del servizio civile del progetto Senza Età. Il modulo di richiesta di fruizione della spiaggia accessibile è disponibile sul sito web istituzionale e presso l'ufficio servizi sociali del Comune. Restando in tema di fasce deboli, quest'anno parte anche il progetto Turismo Sociale Oltre le Barriere, promosso dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione con l'Azione Cattolica Bachelet e l'Associazione Amici del Centro Storico. La novità è rappresentata dalla sedia Scoiattolo, un supporto per disabili, anziani e persone con difficoltà motorie, che permetterà di garantire l'accessibilità al centro storico partendo da Via Patella e superando degli scaloni grazie all'utilizzo della particolare sedia, un'attività gratuita per gli utenti che oltre al risvolto sociale include anche una finalità culturale. Il periodo di attività del servizio è compreso tra l'8 luglio e l'8 settembre, tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22. L'operazione viene svolta anche in questo caso in collaborazione con i volontari del servizio civile. Prosegue l'attenzione dell'amministrazione comunale, affermano all'unisono il sindaco Adamo Coppola e l'assessore alle politiche sociali Ivana D'Arienzo, verso le fasce deboli, alla spiaggia gratuita per disabili e loro familiari, affianchiamo anche il servizio di accompagnamento al centro storico, un ausilio per permettere alle persone meno fortunate di godere delle bellezze del nostro antico borgo.